Signori bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video che come avete potuto intuire dal titolo sarà una football challenge Non sarò da solo, avete visto anche la maglia, che è una maglia speciale, nuova stagione per la Roma Creators, perché oggi andiamo a sfidare un po' di ragazzi della mia squadra della youtuber league E quindi partiamo da Mickey Rapolla, poi Raid, Super Saiyan con questa testa incredibile Sickwolf con gli occhiali da sole che non sono da sole ma li tiene come se fosse E poi il boss del freestyle, l'uomo in assoluto più coatto ma umile di questa squadra Quello invece più schifoso è Claudio Pellegrino, ciao Un applauso, un grande applauso, un grande applauso Voi adesso ci vedete ragazzi, un pochino anche, come dire, carichi Provate perché abbiamo registrato tante challenge che trovate sia su Instagram, sulla pagina che leggete qui in sovraimpressione Quindi seguiteci su Instagram e poi sui canali un po' di tutti Quindi mi raccomando andate a vedere anche gli altri video Allora, ci sarà un insieme di challenge in questo video Però non ve le voglio spoilerare tutte insieme Partiamo dalla prima, è una prova fisica Dovremmo fare uno scatto da fondo campo fino a metà campo E verrà cronometrato Chi ci mette meno tempo ovviamente vince E... Ma io faccio lo YouTube Tu però giochi anche la youtuber league Gioco ora Ci provi? Eh, gioco Vabbè però scusami 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 Un attimo, no, no, vieni qua, vieni qua Perché poi si creano false leggende La gente dice che sei il più scherzo della squadra È vero Che false leggende No, no, tu devi Non è vero Bravo Sventisci Te lo farò vedere su questo video E allora, e allora signori Adesso è seria Faremo questo scatto Il primo classificato Cioè quello che ci metterà meno tempo Totalizzerà sei punti L'ultimo quindi uno Cioè si va a scalare Ero scarso è matematica Però qui c'è Rigo No, ce l'hai Partiamo Prima sfida Vediamo un po' Andiamo Questa la voglio dedicare a Simone Della Rocca Vediamo se c'è qualche risultato mister Dai Allora, mi hanno detto ho fatto 4,70 Non so se poco o se tanto Ero il primo Vediamo che fanno gli altri 4,75 Ho fatto più di raid Non è male Non è male 4,55 Raga, corre per il boss È troppo easy Ma dove vanno questi? Sono morto raga, sono morto Forse mi sono pure stirato 3,2,1 È partito prima È partito prima È partito prima Pellegrino Pellegrino Cioè a Pellegrino è bastato fare un TikTok Con la maglia del Napoli Parte prima Dai No, si scherza Si scherza Cosa fai? Cosa fai? Ma no, rischia di rovinare un gemellaggio che non c'è Quando vuoi 4,73 4,51 Vai uomo 5,60 Va bene, va bene Chiamata, devo fare sotto i 6 Va bene, va bene Lo rifacciamo tra un mese Mi è piaciuto? Perché la qualità migliore che hai sicuramente non è lo scatto Stiamo ancora cercando di capire quale sia Prima o poi la troveremo Però c'è 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 Bravo, Simo Va bene, va bene Va bene Leggete in grafica quella che è la classifica Adesso vi presento la seconda sfida Allora ragazzi La seconda è una sfida di precisione Vedete quella porticina lì dietro, no? Quella grande No, no, no Quella è la porticiona A noi serve la porticina Noi saremo qui, proprio nella lunetta del centrocampo E avremo a disposizione 3 tiri 3 tentativi a testa Dovremo segnare Ogni gol vale 2 punti Mentre il palo vale 1 punto 3 tentativi a testa Dai Abbiamo anche il raccantapalle Il che dimostra la nostra qualità Guardate Che cazzo staglia fa? Primo molto male È dentro Bello Il campione Adesso bisogna fare 2 su 3 Altrimenti siamo sotto la media sicuramente Bene Vinto Palo vale Bene Calma, calma Che tanto arrivo ultimo, sicuro Eccolo, eccolo, eccolo Argo Occhio Occhio Mi ha spostato la porta Un punto per sic Un punto per sic Mi ha spostato la porta Vabbè, ha calcolato bene tutte le distanze E gli ha spostato la porta, ragazzi Ma chi l'ha chiamato? È sempre Federico Sempre Federico Palo Però è già Mi porti a casa un po' Che cazzo Io farei già i complimenti Perché si sa È easy per il boss Quindi insomma Vediamo un po' C'è, c'è, c'è E la pareggia Brava Easy per il boss Guarda qua Eh, sta prendendo in largo, eh, Michele Rapolla, signori Perché ha il mancino di Paolo Di Bala E quello è il suo No, fuori, 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 fuori Ehi No, è schifo questo uomo Buona 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 Complimenti Claudio Pellegrino Un uomo meraviglioso Mio figlio Mio padre Mio nipote Mio nonno Mio tutto Questo uomo purtroppo Anche come vedete 1 2 E Guarda che io l'ho sempre detto Che sick Quando batte i rigori Non c'entra un cut La Roma vince Ora è comunque un piazzato Da parte di sick E quindi occhio Perché è un uomo di qualità Ah Bruttissimo Vedi? Vedi che portano bene che le fanno di per i zoma È un cazzo di fenomeno È un cazzo di fenomeno Signori È arrivato il momento della terza sfida Si comincia a fare più serio Questa è la sfida preferita Da Claudio Pellegrino Rigori E allora Però ovviamente per i rigori Non bastiamo noi Ci serve necessariamente un portiere Quindi penso sia l'occasione perfetta Per presentare Ufficialmente Anche qui sul mio canale Il nuovo portiere Della Roma Creator Simone Pecchi Eeeeeee Bello Simo Come stai Simo? Caricissimo Caricissimo Una sfida Se fai per capire chi saranno i rigoristi eventuali Oh Chi vince? Cioè fai i rigoristi poi Quindi battite sicuro Oh A scatto Mi sbaglio tutto Oh Bello Bello Grazie Guarda dai Se mi rigori ancora mi dipendo bene Poi è in partita che lascio desiderare Bravo Bravo Porta la parola Oh Uno Bego vada Olè Uno 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 Guarda che fuori eh Una parata Eeeee Bravo Guarda come risulta Claudio Guarda come risulta Claudio Guarda come risulta Claudio Grazie Claudio Eh grazie Codo Vai vai Sembo 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 Li ha toccati tutti però eh Li ha toccati tutti Eh dai la punta Dai la punta Dai la punta E' facile Attenzione Eeeee Eccolo Sei in contro Sei in contro Bravo Ecco il Pec Non devo essere l'unico a sbagliarli Bravo Pec Ah Ragazzi Contro il vento Contro l'estero Il piattone lo aprirei Si incrocia ancora La faccia di Claudio Bellissima Ma hai visto così Ma che cos'è Ma che ha fatto Provo del disgusto Ma si è trasformato Oddio C'è un goato C'è un goato C'è un goato E ti sta bene Che cos'era quello sguardo Però Che cos'era quella faccia Parata tra me Intanto complimenti Per la parata Intanto complimenti per la parata E' un PNG di FIFA Non ha cambiato espressione Neanche dopo il rigore sbagliato Vai Pec Bravo Pec Mi hai salvato Pec Bravo Sono alquanto disgustato dal fatto che Claudio stia gufando Sikolf pur di non arrivare ultimo Che ti sto facendo su Come state? Sono sfatti della posizione in classifica Claudio tu mi fai schifo Stai gufando Sik C'è una cosa brutta Siamo Siamo arrivati all'ultima sfida signori L'ultima La più importante Potrebbe ribaltare o confermare come direbbe qualcuno Shot out Si parte da centrocampo Con Pec in porta Abbiamo tre tentativi a testa Chissè ogni gol Vale due punti Come sempre E da quando partiamo da centrocampo Per andare a segnare abbiamo 15 secondi a disposizione Brutto da vedere Un aerone che correva Vai gol È gol Signori è gol 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai Mannaggia Eh che ricorre il numero di prima Andai parla E che fai le otto E c'è E c'è Io chiedo scusa Per queste visioni ignobili Cioè ogni volta riesce a peggiorare la sua situazione È incredibile È andato nel termine Occhio a giù 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 Nooo Ho fatto una cosa brutta e chiedo scusa a chi mi supporta sempre A chi ha fiducia in me pensando che io sia un calciatore Sono momenti in cui prendere coscienza con la realtà Che schifo Occhio a giù Noaa That co! Che culo Uh 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 mi so strappato un'altra volta Alumni Ufff, ufff! Easy per il prossimo! Ho troppe cose, troppe... Eh, qua righi la partiglia! Vai! Vai! È il modo, è l'opinio del modo! Dai, dai! Bravo! Bello, questo è bello! Bravo! Solo che è il mio scenario ultimo comunque! Vai! Bravo, bravo, bravo! Eh, mi sono giocato tutti i bonus al primo tiro! Ho finito i colpi! Sono arrivato stanco! Però va bene così! 3, 2, 1, vai! Secondo posto per il boss! Quasi! Troppo facile arriva primo, capito? Ma io secondo! L'avevo detto! L'avevo detto! Lei è veramente un po' rilasso! Lei è previdente! Eh sì! Potrei... È stato veramente un piacere giocarci questo secondo posto insieme! È stato bello! Sapevo già di essere terzo! E sai perché? Sì! 3 è il numero perfetto! Giusto! E anche il numero di Pellegrino! Allora non è perfetto! Niente! Quanto stai? Se sbagli e si può fare la regina! Oh! È andato! È andato! Riccardo Mancini direbbe destro mastodontico di Bagnes che però termina alto! Vabbè allora devo sperare che Sik sbagli praticamente! 3! Ancora! Cioè confi pure all'ultimo! Vai! 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 Sì! 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 Signori questa football challenge è giunta al termine! Non riesco neanche più a parlare! Ha vinto Michele Rapolla! Un grande applauso! L'applauso! Sì! 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 Bravo! Mi ha tenuto testa! Sì! Signori grazie per aver seguito il video! Vi ricordo che qui a schermo c'è Roma! Trattino Basso Creators! Seguiteci su Instagram! Seguite la YouTuber League! Seguite tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo video! E ai tanti altri che sono usciti su YouTube! Su Instagram! Ovunque! Ci vediamo alla YouTuber League! Perché c'è Milan e Roma! Partiamo da lì! Dai! Ciao!